Radio DJ, Radio DJ, la tua compilation in FM. Radio DJ, radio DJ, la tua compilation in FM. Radio DJ, radio DJ, la tua compilation in FM. Radio DJ, radio DJ, la tua compilation in FM. Radio DJ, radio DJ, la tua compilation in FM. e ora è Firaus ovvero la house più cattiva del mondo quella arrabbiatissima quella che sentilo fratello e ora è Firaus Radio DJ Network Fatboy The Twins Get on down and party Get on down and party Get on down and party Ok Human Beatbox The Original Human Beatbox From DJ Come on baby Yeah Let's do the twist Jump in the bad boys We're doing the twist Take the world out of hand And do the twist And do the twist We're doing the twist Oh, una notizia esagerata voglio darvi Lo sapete che forse il prossimo origino latino esce proprio fra pochi giorni? Te l'hanno detto e forse sarà un'etichetta che noi conosciamo a produrla Ho detto anche il titolo, però non ve lo disse Ho visto la copertina Tra pochi giorni in tutti i negozi il nuovo di Gino Latino Questo è Are You Ready? Are you ready? Let's move to the beat Are you ready? Are you ready? Quindi tra poco pochi giorni al nuovo di Gino Latino Mace, 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 Mace Break the noise Mace, Mace, Mace La bella da 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 Mace, Mace, Mace Paper geleare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti